La prima di Alessandro Nesta, la prima del post Daniel Ciofani, inizia una nuova era a Frosinone, i giallazzurri affrontano nel secondo turno di Coppa Italia la Carrarese, è già calcio vero al Benito Stirpe, kick-off iniziata ufficialmente la stagione del Frosinone tedeschi. Pallone per Valente, prova ad uscire palla al piede della Carrarese ma sbaglia e quindi Frosinone che riparte con Citro, pallone in mezzo per Ciano, Camillo Ciano segna il primo gol della stagione del Frosinone al minuto 10, Frosinone 1, Carrarese 0, ripartiamo dal mancino di Camillo Ciano. Va in mezzo da Gori, suggerimento da quest'altra parte per Beghetto che può andare al cross con il mancino, pallone troppo alta, c'è Paganini, il gol del 2-0 del Frosinone con Luca Paganini, assist di Beghetto e stavolta conclusione vincente del numero 7 del Frosinone al 44esimo, Frosinone 2, Carrarese 0, forse la chiude così Luca Paganini. Unizione in favore del Frosinone, a Ciano con il mancino, pallone al centro dell'era di rigore, Ariaudo, la palla entrata sì, 3-0, 3-0 Frosinone, gol di Lorenzo Ariaudo, colpo di testa vincente di Lorenzo Ariaudo, cross di Ciano, stacco di Ariaudo, 3-0 Frosinone. Trotta che prova ad accelerare, uno contro uno con Tedeschi, vediamo cosa combina l'ex Sassuoli d'Avellino, ancora Trotta, la mette in mezzo, Ciano lascia scorrere, Citro in aria, ancora Citro, 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 allarga per Tribuzzi. 4-0 del Frosinone, Alessio Tribuzzi, c'è gloria anche per l'ex Savellino, alla prima con la maglia del Frosinone, 4-0. Il novantesimo scocca in questo istante, fischietto in bocca per il direttore di gara, allo stirpe il Frosinone batte 4-0. La Carrarese nel secondo turno di Coppa Italia, qualificazione meritatissima per i giallazzurri di Alessandro Nesta, vi ricordo in sequenza le reti, Camillo Ciano al decimo minuto del primo tempo, Luca Paganini, al 44esimo del primo tempo, nel secondo tempo, al terzo Lorenzo Ariaudo, al 35esimo Alessio Tribuzzi, prosegue quindi l'avventura del Frosinone.